martedì 28 maggio oggi si festeggia sant'emilio martire e san tercole oggi è la giornata mondiale contro la sclerusi multipla ed è anche la giornata mondiale dell'hamburger il proverbio del giorno recita maggio giardinaio non empie il granaio ed ora l'oroscopo della sibilla ariete invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito dal lavoro e dai doveri provate ad organizzarvi meglio la giornata gestendo in modo adeguato gli impegni riuscirete a ritagliarvi spazi da dedicare a voi stessi toro progetti e obiettivi condivisi con i colleghi ed i collaboratori prima occhio alla rigidità che vi induce a snobbare chi non la pensa come voi al termine dell'orario di lavoro non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare moto gemelli se vi siete creati un modello ideale cui il partner non somiglia avete due soluzioni possibili rinunciare all'idea oppure cambiare partner urge un po di autocritica sbagliato pretendere dall'altro ciò che voi per primi non siete in grado di dare cancro nelle trattative pugno di ferro con guanto di velluto ogni tanto lanciate la battuta di spirito che distrae l'interlocutore portandovi in vantaggio bene l'estero ma solo se padroneggiate la lingua in caso contrario qualcuno tenterà di approfittarsene leone la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa ma la forza di volontà e l'ambizione vi spingono ad andare avanti è il momento di farvi notare accettando di assumervi quelle responsabilità che gli altri hanno declinato vergine promettenti ma non esaltanti gli affari incerto anche l'approccio con l'interlocutore è riuscito solo a metà qualcosa oggi non gira come vorreste dispiaciuto chi si trova costretto a fare gli straordinari impegnando così buona parte della serata bilancia nutrirete qualche dubbio in merito ad un affare ma non per questo getterete la spugna trovate un accordo che preveda maggiori garanzie prendete le vostre decisioni senza lasciarvi influenzare troppo dalle opinioni degli altri scorpione grandi progetti per il futuro incoraggiati dai buoni risultati del momento la sicurezza che dimostrate vi mette in mano lo scettro del comando buoni guadagni si alternano a spese pazze sembrate maneggiare il danaro con estrema disinvoltura sagittario lasciate perdere i ricordi belli o brutti che siano che affiorano nella mente pensate invece a quante cose belle pur riservarvi il futuro in ambito professionale mancate di organizzazione ma evitando di strafare porterete a casa il risultato capricorno scrupolosi come sempre sarete tranquilli solo quando saprete di non avere nulla in sospeso non avete alternativa prima il dovere poi il piacere se avete intenzione di comprare la vostra prima casa valutate bene i pro e i contro di un'offerta acquario stelle e gnave oggi non vi ostacolano ma nemmeno vi recano vantaggio molto lavoro ma con guadagni ancora inferiori rispetto alle aspettative piacevole la serata a contatto con la gente e immersi nel fai da te vi sentite liberi di esprimervi pesci luna nel segno buona amica di saturno che vi aiuta a tenere a freno la lingua concreto e stabile il lavoro nonostante le vostre lamentele progetti grandiosi magari troppo ambiziosi almeno per quanto lascia supporre la situazione attuale